Una piccola e curiosa mongolfiera si è alzata in cielo e è rimasta a lungo e immobile sopra un campo in uno dei giorni più caldi di questo mese di luglio, infuocato da Caronte, monitorando le piantine di soia che stanno crescendo in un appezzamento in località Chianacce, nel cuore della Val di Chiana. Qui, infatti, l'ingegneria aerospaziale è arrivata in soccorso dell'agricoltura grazie al progetto PRIN. L'obiettivo del progetto è quello di cercare di capire se riusciamo a ottimizzare l'irrigazione, quindi l'utilizzo dell'acqua, attraverso una gestione differenziata dell'irrigazione. Per fare questo è necessario monitorare quello che accade alla coltura nel momento in cui c'è uno stress idrico o nel momento in cui si fa un'irrigazione. A bordo della mongolfiera è uno strumento innovativo che, assieme alle attrezzature più tradizionali, consente di mettere a fuoco lo stato di salute e il comportamento delle piante e determinare il loro fabbisogno irriguo. C'è un cervello, che è il computer di bordo, riesce a gestire i sottosistemi di bordo. Qui abbiamo due camere, una monocromatica e l'altra colori, poi c'è una terza camera che è una termocamera. Questo parecchio, con questo gancio qui, viene attaccato a un pallone frenato. C'è comunque il sistema di paracadutaggio, quindi nel caso il pallone si rompa, questo plana in maniera sufficientemente dolce. Con il team di universitari, anche il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Il consorzio su questo ha presentato nella regione toscana un progetto a valere su finanziamenti del PSR, proprio per poter consentire anche nella nostra area di dare questo supporto alle imprese agricole. Quindi da una parte per ridurre l'uso delle risorse, dall'altro ottimizzare l'impiego delle risorse in funzione della produzione, della produttività e della qualità dei prodotti stessi.